Giovanni Capaldi, una sconfitta contro il Fornelli, però insomma un primo tempo in cui avete meritato tanto. Sì, questa è una sconfitta che fa male proprio per questo, perché noi il primo tempo l'abbiamo quasi dominato, abbiamo giocato veramente bene, anche il secondo tempo l'abbiamo cominciato bene, soltanto che poi purtroppo gli episodi cambiano le partite e questo è l'esempio più eclatante che poteva succedere. Ecco, però sicuramente questo amaro in bocca che vi lascia questa sconfitta vi servirà per raccogliere ancora di più le forze. Sì, anche perché noi eravamo comunque partiti bene. Diciamo che l'inizio del campionato non è stato così tragico come quello dell'anno scorso, che abbiamo perso in casa 5-3 con i Lupi Moinaro l'anno scorso, quest'anno invece abbiamo parigiato fuori casa e abbiamo fatto un'ottima partita qui in casa col Fornelli, che comunque è una squadra di vertice, quest'anno punta al vertice e quindi noi siamo contenti della nostra squadra e siamo contenti soprattutto perché se guardiamo la nostra difesa oggi c'erano tutti under, quindi noi puntiamo sui giovani, l'ha detto la società, lo ribadisco anche io perché è una costa d'azione e andiamo dritti per questa strada senza mai fermarci.